Oggi siamo qua con un nuovo video. Siamo qui con questa scatola che mi è appena arrivata direttamente dall'America e ragazzi finalmente ritornano sul canale le Monster High. Questo ragazzi è il brown box con cui arriva Claudine Wolf della linea Monster High Haunt Couture e non sono molto contento del packaging perché non arriva con nessuna scatola esterna ma solamente con questa qui dove sul retro hanno appiccicato l'adesivo con l'indirizzo. Mi aspettavo un pochino più di attenzione all'imballaggio ma comunque è arrivata sana e salva. L'ho già controllata e adesso la apriamo subito. Ed eccola qui la scatola in cui è contenuta Claudine Wolf in questa nuovissima linea da collezione e ragazzi è tutta completamente a forma di vara con dei dettagli veramente bellissimi. Non possiamo vedere la bambola all'interno ma da quanto so queste bambole sono vendute solamente online dal sito Mattel Creations quindi che siano aperte o che siano chiuse non ci cambia nulla ma la scatola è veramente stupenda. Qui nella parte centrale vediamo applicato questo pezzo di cartoncino è proprio applicato incollato sopra non è semplicemente stampato con al centro il logo Monster High tutti questi dettagli di fasi lunari qui nella parte superiore. Negli altri angoli invece troviamo la zampa di un lupo delle ossa incrociate sotto ovviamente il logo Monster High e la scritta Haunt Couture. Su tutto il resto della scatola invece ci sono tutti questi dettagli bellissimi fucsia su neri su fondo nero dove vediamo un sacco ma veramente un sacco di decori e di dettagli disegnati. È tutto stampato su carta opaca ma con i dettagli super lucidi e riflettenti e ad esempio qui possiamo vedere una luna di nuovo il logo Monster High con le orecchie da lupo possiamo vedere una cerniera con le fasi lunari delle spille da balia di nuovo delle ossa incrociate poi dei fiocchettini questa scatola è veramente realizzata in un modo impeccabile veramente stupenda. L'applicazione che abbiamo visto prima su cui c'è stampato il logo come vedete ha tutta questa texture di finta pelle che io sto amando alla follia. Gli stessi disegni gli stessi dettagli gli stessi riflessi proseguono anche su entrambi i lati della scatola e gli stessi disegni gli stessi dettagli li ritroviamo anche sul retro dove non c'è scritta alcuna informazione non c'è scritto assolutamente nulla ma possiamo vedere che sono rimasti solamente i dettagli neri lucidi ma sono spariti i dettagli lucidi fucsia diciamo che il retro è leggermente più semplificato ma è veramente sempre bellissimo andiamo però a rimuovere tutti gli scotch per aprire la scatola e iniziamo finalmente ad aprirla la prima cosa che troviamo è questo fogliettino che non è altro che il certificato di autenticità di questa bambola con ovviamente di nuovo il logo monster eye la scritta haunt couture qui al centro ci dicono appunto che è il certificato di autenticità qui c'è la firma credo della designer di questa bambola credo non vorrei dire una scemata e invece sul retro c'è un piccolo testo scritto direttamente da claudine wolf ve lo lascio qui un attimo se volete fermarvi a leggerlo fate pure pausa e io intanto invece vado avanti così vediamo subito la bambola e questo ragazzi è come si presenta claudine all'interno della sua scatola devo dire che mattel quando vuole quando si impegna fa veramente dei lavori stupendi la prima cosa che possiamo notare che la bambola è protetta qui davanti da tutto questo pezzo di plastica che la ricopre completamente in modo che se vogliamo andare ad esporla così lasciandola in scatola abbiamo la plastica davanti che farà in modo di proteggerla dalla polvere da graffi da qualsiasi cosa ma potendola appunto vedere tutta completa ma ovviamente secondo voi la mia resterà in box assolutamente no quindi andiamo subito a togliere anche la parte di plastica andiamo a rimuovere claudine dalla scatola e iniziamo finalmente a deboxarla mi sono accorto solamente ora che all'interno della scatola all'interno diciamo del coperchio c'è questa taschina con all'interno un libricino credo che sia il classico diario monster eye andiamo subito a vedere e infatti è il diario di claudine wolf infatti troviamo il logo monster eye il nome claudine wolf e qui sotto la scritta questo diario appartiene a e ragazzi guardate anche in questo caso è tutto opaco con le scritte invece lucide ci sono un sacco di cose scritte anche all'interno ovviamente non sto qua a leggervele tutte ragazzi perché sennò ci metteremo due ore però qui c'è tipo nome età parenti lo stile un sacco di cose veramente guardate quante cose ci sono scritte magari vi faccio scorrere un attimo così le pagine per chi fosse interessato a mettere pausa e a leggere tutto poi ci sono queste pagine qui che spero si riescono a leggere bene e poi queste che sono le pagine finali c'è veramente un sacco di roba scritta ed è veramente bellissimo adesso vado ad appoggiarlo così vediamo finalmente claudine ragazzi non potete capire l'emozione nell'essere qui a recensire una monster eye dopo tutto questo tempo ma cominciamo che stiamo già perdendo troppo tempo il suo mold è il classico mold del viso di claudine quello che hanno sempre utilizzato e se non sbaglio non è il mold del reboot ma proprio il mold classico la carnagione è sempre abbastanza scura quasi abbronzata i suoi occhi sono stupendi sono veramente bellissimi e questo ragazzi è la conferma come vi dicevo prima che mattel quando vuole può ancora infatti vediamo che sono castani ma con tutti questi riflessi all'interno miele quasi giallo ci danno veramente un sacco l'idea degli occhi da lupo e il trucco ha una linea di eyeliner giallo e poi è tutto sfumato sia nella parte superiore che nella parte inferiore dell'occhio con un ombretto viola il tutto ovviamente arricchito da delle ciglia impiantate e da un eyeliner nero una cosa che mi piace un sacco che forse riuscite a vedere bene anche così è che ragazzi hanno aggiunto del lucido proprio all'interno degli occhi per farli sembrare quasi umidi quasi bagnati una cosa che non ho notato spesso sulle bambole ma che su di lei ho notato subito perché l'ho trovata una cosa stupenda le sue sopracciglia sono veramente molto folte con un sacco di peletti disegnati sia nella parte centrale che nella parte finale proprio per dare questo effetto più peloso più da appunto lupo sulle labbra invece indossa un rossetto viola e ovviamente ci sono come sempre disegnati i suoi due dentini bianchi per il resto sul viso indossa solamente un po di blush sulle guance ma è veramente bellissimo salendo a guardare la sua testa vediamo che ovviamente i capelli sono castani ma non solo e lo vedremo tra un attimo indossa questo cerchietto tutto nero con queste borchie dorate e sulle sue orecchie che come sappiamo tutti Claudine Wolf ha le orecchie proprio da lupo non ha le orecchie normali sui lati sulle orecchie appunto vediamo che su uno sul suo sinistro porta questi due orecchini dorati che sono proprio stati infilati nel suo orecchio infatti si possono rimuovere si possono girare sono veramente un dettaglio che mi piace un sacco invece sull'altro orecchio indossa questo orecchino viola che sembra composto da tre gemme e in più è agganciato in due buchi quello in alto e anche uno più in basso ma prima vi dicevo che i suoi capelli non sono solamente castani perché se li guardiamo dal retro oltre ad essere molto lunghi perché le arrivano praticamente sotto il sedere quasi alle ginocchia nella parte sottostante proprio nella parte della nuca come vedete ha un sacco di ciocche rosa se andiamo proprio a girare tutti i capelli e guardarli da sotto vediamo tutte queste ciocche rosa come vedete sono un pochino incasinati ma c'è un ma anzi due ma non ha la colla all'interno della testa infatti la sua testa è molto morbida quindi questi capelli non si ungeranno mai come succedeva a tutte le altre monster eye e questa ragazzi è una cosa stupenda e in più non hanno alcun tipo di gel non hanno alcun tipo di prodotto e sono morbidissimi secondo me con una sola spazzolata questi capelli diventeranno perfetti anche perché ragazzi sono una fibra morbidissima leggerissima finalmente mattel ha riutilizzato sulle sue bambole dei capelli veramente di qualità ma dobbiamo anche iniziare a guardare il suo look perché è diciamo una rivisitazione credo del suo look principale per prima cosa ovviamente vediamo subito questo pellicciotto questo pellicciotto tutto super peloso molto morbido e come vedete anche composto da due colori nella parte iniziale e finale troviamo tutta la pelliccia viola nella parte centrale invece la pelliccia è rosa guardandolo sul retro si nota meglio qui c'è ancora un po il segno ovviamente della scatola abbiamo tutti questi peli morbidissimi viola rosa e di nuovo viola molto bella molto morbida e in più questa pelliccia è stata tutta foderata internamente con questa stoffa verde a contrasto una stoffa molto buona non le classiche stoffe chip che utilizza ultimamente mattel nelle bambole ma veramente una buona stoffa ed è tutto foderato appunto all'interno fatto benissimo sono andato a rimuovere la pelliccia per vedere meglio quello che indossa sotto e infatti vediamo che indossa questa collana che è tutto purtroppo un pezzo unico di plastica colorata d'oro ma qui nella parte più vicina al collo quella che dovrebbe rappresentare una specie di choker vediamo che è stata colorata con del nero questa collana dovrebbe far finta di essere quattro collane diverse quella come vedete più attaccata appunto il choker questa qui centrale questa un pochino più grossa e questa qui un pochino più sottile sinceramente se ne avessero messe magari due al posto di una l'avrei preferito però comunque è realizzata bene tolta anche la collana possiamo vedere che indossa questa maglietta maniche corte fatta tutta di questa rete semi trasparente nera ma con tutti i riflessi dorati che infatti ci lascia intravedere anche quello che indossa sotto ma che vedremo tra un momento questa maglietta ha i bordini sia delle maniche che della parte qui in fondo della parte finale cuciti con questo nastrino dorato al posto dell'orlo devo dire che i dettagli su questa bambola finalmente ci sono come si poteva già intuire prima sotto a quella maglietta maniche corte semi trasparente indossa questo top questa specie di top canotta con le spalline realizzate con un nastrino verde e con quel centro questa stoffa verde e rosa con questi segni come se fossero dei graffi di un lupo molto carina fin troppo semplice per i miei gusti ma per fortuna mattella abbiamo pensato di coprirla un pochino appunto con quella maglietta tutta glitterata dorata scendendo a vedere la sua gonna vediamo che è lavorata molto bene è fatta di questo tessuto finta pelle e ragazzi ha tutti i dettagli al posto giusto perché oltre a vedere tutte le cuciture fatte di questo filo dorato che ripropongono anche delle tasche che non ci sono realmente ma sono solo disegnate con il filo vediamo che in cintura ha anche applicati tutti questi finti bottoncini dorati che ritroviamo anche qui sulla parte quasi finale della gonna dove si attacca tutta questa plissettatura infatti come vedete anche qui troviamo tutti questi finti bottoncini dorati e sotto troviamo lo stesso tessuto cucito tutto a pieghe ma vorrei farvi notare che le pieghe sono tutte perfette sono tutte della stessa identica dimensione e proseguono anche sul retro assieme a tutti i bottoncini e appunto sono tutte identiche l'una all'altra questa gonna è stata realizzata veramente con una cura quasi maniacale e in più se andiamo ad alzare questa parte di stoffa troviamo due strati piccolissimi di tulle nero ci sono proprio due strati per dare forse un dettaglio in più che sbuca qui sotto dalla gonna ai piedi invece indossa questi stivaletti bellissimi stupendi lasciano uscire le dita dei piedi nella parte frontale la cosa non mi piace moltissimo ma sono fatti benissimo e sono veramente comunque molto belli come vedete sono completamente neri con il tacco altissimo i dettagli colorati d'oro qui troviamo questa specie di luna e poi tutte queste finte borche dorate in giro per la scarpa e queste borche queste palline dorate le ritroviamo anche lungo tutto il tacco in più come se non bastasse hanno anche aggiunto queste calze a rete che hanno una specie di disegno un po particolare che però non riesco a capire se debba essere realmente un disegno solamente fatta così la calza rete ma sono comunque molto carine arrivano fino quasi a metà polpaccio passando invece a vedere i suoi accessori sul suo braccio sinistro vediamo che indossa questo braccialetto tutto dorato e la cosa che mi piace è che quasi tutti i suoi accessori hanno questo effetto metallizzato e qui sotto troviamo attaccato questo piccolo charms questo piccolo pendaglio che non penzola molto ma se vedete se io vado a muoverlo si muove non è un pezzo unico con il bracciale che sembra quasi un piccolo bauletto una piccola borsettina tutta sempre di questo oro metallizzato con al centro anche il logo monster eye anche sul retro vediamo tutta questa texture molto carina invece sull'altra mano vediamo che indossa questo gigantesco anello che prende tutte le dita sempre con questo finish dorato metallizzato con incisa la scritta monster molto bello veramente bellissimo mi piace un sacco e in più arriva con questa finta borsa perché non si può aprire ma è a tutti gli effetti la sua borsetta che come vedete ragazzi ripropone il suo primo outfit il suo look diciamo più iconico il proprio il primo infatti vediamo che qui c'è il suo choker nero e oro tutta questa pelliccetta che le passava attorno al collo tutta questa finta pelle nera anche sul retro che era appunto il suo giacchettino con anche qui lungo il bordo tutta questa parte viola e qui al centro anche questa cerniera dorata ma la cosa che mi piace di più di questa borsettina è che la tracolla è tutta di metallo dorato è proprio una catenina di metallo e sapete che io amo quando mettono i dettagli di vero metallo sulle bambole con lei ovviamente e per fortuna arriva il classico stand monster high però questa volta ricolorato per l'occasione con questo fucsia questo rosa effetto super metallizzato è quasi effetto specchio ed è stato colorato anche nella parte sotto infatti eccomi qua che mi vedete dietro la telecamera e in più abbiamo l'asta tutta trasparente e anche il gancino trasparente fatta nello stesso modo c'è anche la spazzolina che è sempre di questo rosa fucsia metallizzato che non è altro che la classica spazzolina monster high con qui sopra il logo e invece qui la scritta monster high e ovviamente qui i dentini della spazzola quindi ragazzi questa era claudine wolf della linea haunt couture delle monster high questa linea è una linea da collezione una linea in limited edition anche se la pezzatura non è specificata il numero di pezzi prodotti non è scritto da nessuna parte sono bambole assolutamente limitate infatti poco dopo che l'ho acquistata io sul sito era già sold out e la stessa cosa è successa anche per frankie che però mi deve ancora arrivare anche se l'ho acquistata prima purtroppo non sono riuscito ad acquistare draculaura perché in quel momento avevo degli impegni e quando sono andato sul sito per acquistarla era già esaurita mi dispiace tantissimo mi piacerebbe poterla recuperare in qualche modo ma ho già visto che viene rivenduta a dei prezzi veramente assurdi quindi probabilmente draculaura non ce l'avrò mai o se ce l'avrò non ce l'avrò di sicuro a breve detto questo ragazzi devo ammettere che questa bambola è veramente bella è fatta veramente molto bene non è per me un triplo wow solo perché il personaggio non mi fa impazzire e di conseguenza anche i suoi colori anche il suo stile diciamo che non è proprio il mio personaggio preferito credo che frankie potrebbe essere effettivamente un triplo wow ma comunque un doppio wow questa bambola lo è lo stesso è fatta benissimo vale assolutamente i soldi che costa nel momento in cui viene venduta non al prezzo a cui viene rivenduta su ebay dove la gente cerca ovviamente di lucrarci il più possibile e diventano veramente dei ladri la scatola è stupenda sia dentro che fuori il suo outfit è rifinito benissimo questa ragazzi è la terza volta che ve lo ripeto ma è la dimostrazione che mattel quando vuole sa fare ancora le cose come si deve sa fare ancora le cose in un modo veramente bellissimo come avete visto con lei non arrivano un sacco di accessori perché oltre a quello che addosso arriva solamente il diario il certificato di autenticità e la spazzolina ma direi che è tutto più che sufficiente perché quando le cose sono fatte bene non serve che ce ne siano migliaia ma ne bastano poche ma appunto fatte nel modo corretto detto questo ragazzi ora aspetto solamente di sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti fatemi sapere se l'avete acquistata se vi piace se non vi piace cosa ne pensate di questo ritorno in edizione limitata delle monster eye voglio sapere tutto quello che pensate di lei io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile che vi abbia tenuto compagnia fatemelo sapere lasciando qui sotto un like iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va ovviamente seguitemi anche su instagram e tiktok io ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video